Sicuramente troviamo, nonostante la sconfitta dell'ultimo turno, una squadra in salute che ha giocatori importanti, che era stata costruita per un obiettivo, che era quello di vincere il campionato, però loro credono, come giusto che sia, nella proda ai play-off e quindi sicuramente sarà una gara difficile, ma noi abbiamo il giusto entusiasmo, la giusta voglia di poter portare a casa punti per raggiungere il nostro obiettivo. Ogni gara è una partita a sé e quindi sicuramente non bisogna guardare nei film precedenti, ma avere la voglia, la determinazione di dover proseguire su questa strada. Troveremo una squadra guerrita, come il Bari che vuole riscattare la sconfitta di Terni, dall'altra parte troverà un Crotone che sta in salute, che deve continuare su questa strada per correre verso la salvezza, quindi sarà una bella partita. L'Oro è una squadra che è stata costruita per lottare ai vertici, quindi come giusto è, ci proveranno fino alla fine per raggiungere un posto nei play-off. Noi dobbiamo cercare di portare i punti alla classifica, perché ora come ora ci servono, mancano 8 partite e ogni punto è prezioso. Poi come va la gara, cercarla, magari devi capire se non puoi vincerla, ma non devi nemmeno perdere.